Senta, se lei adora, o comunque lei rispetta Falcone e Borsellino, forse è il caso di accordare la chitarra. Sente? Ma che? È leggermente scordata. No, è proprio l'immarco della chitarra che porta queste scherze. Perché la chitarra ha di più di 50 anni e ha preso un po' di umidità. Io l'ho portata per questo. Scusi, lei dedica una canzone a Falcone e Borsellino? No, con la chitarra sconata no. Con la chitarra scordata? Perché se fosse scordata io non potrei cantare. Ma è scordata!